Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. La notizia che sta circolando sul web, secondo alcune indiscrezioni, Angelica Donati, figlia di Millie Colucci, potrebbe avere un dolce segreto. A poco più di un mese dal suo matrimonio con il principe Fabio Borghese, è stata fotografata con una mano sul pancino e un sorriso enigmatico. Queste immagini, pubblicate dal settimanale Diva e Donna, hanno alimentato le voci di una possibile gravidanza. Se la notizia venisse confermata, sarebbe il primo nipotino per Millie Colucci e il marito Angelo Donati, sposati dal 1985 e già genitori di un altro figlio, Patrick. La prospettiva di un nuovo membro nella famiglia ha sicuramente suscitato grande entusiasmo tra i fan e i media.